Stasera siamo una bella vecchia da Ufasano vicino ai Prachi, suonavamo il buzzer numero 2 di Sciostapovecci, quella uscita da Sciostapovecci, era che andavo in coppia, e quindi stasera ci sogno io andavo a fumare anche la chitarra, io come il numero, io sonavo il buzzer numero 2 di Sciostapovecci stasera da Ufasano vicino ai Prachi, mi vediamo stasera! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!